per ome o mamme abbiamo visto le quattro leggi fondamentali dell'omeopatia ora possiamo andare avanti nel nostro percorso abbiamo visto rapidamente cos'è l'omeopatia l'utilizzo delle piccole dosi la somministrazione a rimedie sano la legge dell'individuazione oggi concentriamoci sul discorso dei sintomi come segnali in ogni stato di malattia viene segnalato da sintomi questi non sono di per sé malattie ma hanno la funzione dei segnali e se ben compresi possono farci comprendere la natura della malattia e indicarci la via del guarire questa è un'acquisizione propria dell'omeopatia che la medicina tradizionale farmacologica non ha assolutamente nel senso si cura il sintomo si sopprime il sintomo con un farmaco e stop mentre per l'omeopata far sparire i sintomi è la cosa meno importante perché i sintomi sono il linguaggio non è che i sintomi sono il linguaggio si 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 Grazie a tutti.